Lame che raccontano secoli di storia, di quando la Serenissima produceva in Valbelluna le sue armi da taglio, dal XIV secolo fino a quando nel 1525, nella battaglia di Pavia, per la prima volta, gli archivugi ebbero la meglio su lancia e spade. Singolare quella con l'acciarino e una piccola canna per poter sparare, e il piccolo scudo, detto targa, con cui i cavalieri si rendevano riconoscibili e da qui discende la definizione delle targhe automobilistiche moderne. Secondo noi una grande importanza, anche proprio per la consapevolezza che i cittadini di oggi, di Belluno e del Veneto, devono avere, di cosa è stata la Serenissima, che era anche un sistema, in questo caso, di produzione industriale dei distretti proto-industriali che erano abilissimi, che erano bravissimi, sia nel commercio fino alle più remote lande del Mediterraneo, sia nell'approvvigionamento di materie prime, anche in questo caso da tutto l'arco alpino. Al Museo Civico a Belluno non è testimoniato nulla di questa produzione, che comunque storicamente è stata importante qui a Belluno, come in tutta la valle della Val Belluna, sostanzialmente da qui fino a Feltri, a Fonzaso. Una storia che parla del bellunese per scendere fino a Serravalle, a Cordiniano, a Sacile, man mano che i boschi montani venivano consumati e non c'era più legna per fondere il metallo. Acciaio ancora impuro, che veniva in gran parte destinato alla Serenissima, ma che trovava acquirenti dal Regno Unito come dalla Turchia, come dimostrano le sciabole di curve. In questa fase un po' pulp, in cui le cose che sono insolite e in questo caso sanguinarie, perché le spade, ahimè, servivano a quelle, confidiamo che sia una cosa che può interessare. Poi ovviamente lo giochiamo con le scolaresche, faremo delle mostre particolari, facendoci prestare dai grandi musei mondiali che hanno spade bellunesi, con i nomi degli spadari, con gli schemi, con i marchi e con gli stemmi degli spadari e delle grandi famiglie veneziane. Da adesso in poi faremo una serie di eventi annuali dedicate al distretto della Spada, che credo riusciranno con calma a far capire e a sensibilizzare tutto un target di pubblico culturale che arriverà e che aspetta queste cose di nicchia. Le 19 armi che verranno esposte al Fulcis a Venezia giacevano in magazzino insieme ad un'altra cinquantina di pezzi simili. 19 lame, qui se ne aggiungerà una scoperta a Santa Giustina, un paio frutto di un recupero sottomarino su cui c'è il massimo riservo e forse alcune prestate da altri musei europei. Peccato per lo spazio destinato ad ospitarle, che, per chi scrive, non è la scelta ideale per attirarli quanti al Fulcis mai sono stati e diversamente mai ci verranno. Il progetto CLANG consentirà proprio di ampliare l'offerta espositiva qui a Palazzo Fulcis con una sala che, anche se non è grandissima, comunque è una sala tutta dedicata a questa produzione.